ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata ai parafarmaci ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo il parafarmaco proctovasa a cosa serve proctovasa un parafarmaco appartenente alla categoria degli fitocosmetici e commercializzato in italia dall'azienda forfarma srl informazioni commerciali titolare for farma srl concessionario for farma srl categoria di appartenenza fitocosmetici confezioni proctovasa crema anti emorroidaria nickel tested gluten tested 50 ml indicazioni pomata a base naturale a base di rusco ipocastano gingko biloba amamelis aloe in grado di alleviare il senso di bruciore e prurito causato da emorroidi ragadi e irritazioni per i anali i fitocomplessi dei componenti rusco ipocastano gingko biloba amamelis grazie alla loro sinergica azione riducono l'infiammazione e l'edema dei vasi e allo stesso tempo agiscono come stabilizzatori della membrana cellulare degli stessi interrompendo in modo naturale quasi da subito il sanguinamento e il dolore spesso presenti aloe oltre alle proprietà antinfiammatorie a proprietà antimicrobiche immunostimolanti ed anestetiche testata per il nickel e il glutine non contiene parabeni fenossietanolo oli minerali e coloranti modalità d'uso spalmare 1 cm di crema e applicarlo dopo ogni evacuazione o al bisogno e comunque sempre dopo una curata detersione anale in caso di bisogno spalmare sulla zona interessata anche prima di evacuare avvertenze tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età in caso di gravidanza o allattamento si consiglia di consultare il medico prima dell'uso conservazione tenere lontano da luce diretta e fonti di calore componenti e ingredienti rusco ippocastano gingko biloba amamelis aloe fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo para farmaco esaminato grazie a tutti Grazie a tutti.